Il 31 dicembre scadono gli incentivi statali fino al 65% per fare un rifare casa. Garden House ti aspetta con 12.000 metri quadri di esposizione, tutta l'assistenza per ottenere questi ripetibili vantaggi. Hai capito bene? Fino al 65% di risparmio su impianti tra riscaldamento, caldaie, infissi e molto altro ancora. Ti aspettiamo in viale Michelangelo numero 2499 per info 091 222 072.